Fieldwire è un software di gestione dei cantieri che aiuta le aziende a lavorare con più efficienza, comunicare meglio e risparmiare portando a termine il lavoro nei tempi previsti. Con Fieldwire puoi facilmente e rapidamente caricare planimetrie e disegni, così chiunque collabori al progetto può accedere ai materiali ovunque e in qualsiasi momento, anche offline. Puoi aggiungere annotazioni, commenti, foto, monitorare le revisioni, tenere traccia delle specifiche. Con il controllo di versione automatico hai sempre la certezza che tutti lavorino sulle stesse planimetrie. Con la gestione attività di Fieldwire puoi creare e assegnare le attività, stabilire scadenze, monitorare progressi, aggiungere commenti, foto e allegati, così tutti sanno con certezza cosa fare, dove e quando. Fieldwire crea report personalizzati e automatici per una documentazione più rapida. Allega le foto alle planimetrie. Crea moduli personalizzati e gestisci RFI e sottomissioni, tutto con un'app facile da usare. Aziende di ogni dimensione possono usare Fieldwire per migliorare l'efficienza e aumentare la produttività. Vuoi scoprire come risparmiare fino ad un'ora a persona al giorno? Inizia a usare subito Fieldwire.